il video lo sto facendo si c'è il video tranquillo il video lo sto facendo Ragazzi dobbiamo farci di nuovo tutta quella salita di Già Mi sentirete che inquadro subito l'acqua Così Perché no? No niente tranquillo rimani così buono Grazie Grazie a tutti Ce la fai? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti